Amore, stanotte a letto sei stato veramente un supereroe. Chi è Batman? No. Superman? No. Hulk? No. E chi? Flash. Ma sai che secondo me Marco e Stefania sono veramente fortunati? Eh sì, come mai? Perché le sue figliole, tutte e due, si sono messe con due salumieri. E quindi? E quindi ora hanno due ceneri alimentari. Amore, sai cosa mi ha detto la dottoressa? No, dimmi. Che fare l'amore fa bene al cuore. Eh, perché non ti ho mai visto nudo. Oh amore, oggi mi sento poetico. Oh, guarda là. Che c'è? Una stella cadente. Esprimi un desiderio. Oh, speriamo che ti caschi addosso. Il conto si chiede alla cassa? E c'è scritto, si prega di chiedere il conto al tavolo. Ah, da tutte e due parti, guarda. Quindi lo devo chiedere al tavolo? Scusa, ci puoi fare il conto per favore? Ho sempre pensato che la felicità iniziasse con fe, ma la mia felicità inizia con te. Io so perché. Sì? Perché ti sei dislessica. Ma è possibile che non capisci mai quello che ti sto dicendo? In che senso? Vedi? Senza occhiali può. Allora, non è possibile, dopo tutto quest'anno che si sta insieme, che siamo sposati, non sai ancora una parola di inglese. Ma guarda, io l'inglese lo parlo benissimo. Sì, allora, come si dice sporco l'inglese? Dirti. Allora, dimmi una frase con dirti. Non so che dirti. Senti, il vino si prende rosso, va bene? No, bianco. No, il vino si prende rosso. No, bianco. Ho detto rosso, chi comanda? Io, perché? No, era così una domanda, era una verifica. Lo sai andare nella chiesa russa di Santo Serafino a Sofia? Sì. Mi ha fatto capire come mai le donne vivono più degli uomini. Ah, come mai? Perché non ci hanno la moglie. Oh, guarda, qui è veramente bello. Eh? Davvero bello. Il lago ghiacciato, fantastico. Poi, voglio dire, anche tutta la gente, tutti simpatici. Sì, sì. Cioè, però, quello lì accanto a noi, quello non è per niente simpatico. Ah, tu dici Mario, sì. Porca miseria. Oh, poi tra l'altro è tremendo, quello se le fatte tutte, nel nostro piano se le fatte tutte. Eh, tutte, tranne una. Eh, eh. L'antonella. Eh, quella sulla tira. Mi stanca antipatica. E' arrivata proprio ora la notizia che è stata testata la pillola anticoncezionale per gli uomini. Dall'EMA, eh. E funziona? Per ora nemmeno un uomo è rimasto incinto. Allora, si va all'Ikea domenica a comprare quel mobilino? Madonna, che palle con questi, basta con questi. Allora, che si va a pranzo dai miei? Di che colore ti piace il mobilino? Lo sai che ho sentito? Cosa? Che lo stress aiuta a mantenersi in forma. Allora, se puoi fare l'allenatrice. E insomma, sei contenta? Sono contentissima. No, finalmente arriva Giovanna, la tua amica, eh? Sì, sono contentissima. No, era tanto che non ci si vedeva. Ma certo, anch'io sono contenta. Eh, sì. Meno un po' parliamo un po' dei vecchi denti. Sì, è vero. Si parla tutti insieme. Sì, tutti insieme. Invece che parla sempre te, se no, va benissimo. Però, tanto per cambiare anche. Sì, sì. Sono proprio contento. Bene. Sì, sì. Sì, è stato molto divertente. Quando siamo siamo alla scuola, c'è un mezzo alla bus? E' una night butterfly. Sì, ma non solleva che stavano direttamente. Sì, ma non solleva che stavano direttamente. Ma non solleva che stavano direttamente. Ma non solleva che stavano direttamente. che c'è che c'è che ti vedo ti vedo tutta agitata nulla nulla no qualcosa c'è vedrai allora se io ti chiedo una cosa sì allora però mi devi rispondere sinceramente che cosa è ora te lo chiedo è che mi deve rispondere sinceramente va bene ti risponderò sinceramente ok dimmi dai forse però domandami perché io ho tutti questi cicci che vedo ma sono ingrassato secondo te sinceramente allora si schiaccia sul divano chihuahua è noto quello di troia figlio come ti piacerebbe morire a me mi piacerebbe morire nel sonno ma si ero minna nanna minna A bisco bombina gillo do Ahahahahha